Siamo con Sergio Piccinini, responsabile ambiente di CRPA, siamo al Tecnopolo, è la mattinata di presentazione dei risultati del progetto GOBIOM che riguarda l'ottimizzazione della filiera per la produzione del biometano, un progetto di cui il dottor Piccinini è responsabile scientifico e di cui noi cercheremo di capire qualcosa di più. Il biometano è una cosa che viene dopo il biogas, che differenza c'è? Il biogas è una miscela di anidride carbonica e metano, circa 55-60% metano e il resto è anidride carbonica, CO2. Il biometano è metano al 96-99%, cioè del tutto simile al gas naturale, fossile, che utilizziamo attualmente in larga misura nel nostro paese. Quindi il biogas da cui voi volete partire è quello che adesso c'è nelle centrali che si vedono anche in giro per le campagne? Certo, l'Italia è il quarto produttore mondiale di biogas, dopo Germania, Stati Uniti e Cina e lo produciamo essenzialmente da biomasse di tipo agricolo, i liquami zootecnici, gli scarti agricoli, i sottoprodotti delle attività agroalimentare, dell'industria agroalimentare, culture dedicate, eccetera. Il biogas attualmente viene utilizzato per produrre energia elettrica attraverso i cogeneratori che producono energia elettrica e il calore che serve per mantenere i temperaturi di gestori anaerobici che producono il biogas. La scommessa è passare dalla produzione di energia elettrica, che già nel nostro paese ha raggiunto percentuali significative, ad un biocarburante, il biometano. L'Italia è leader europea nei veicoli a gas, a metano, quindi abbiamo già gli utilizzatori del biocarburante. Il biometano è il biocarburante per eccellenza dell'Italia, che non ha la possibilità di usare grandi estensioni di terreno per produrre il bioetanolo o il biodiesel. Quindi produciamo il biometano utilizzando i sottoprodotti, in particolare della nostra agricoltura e della nostra agroindustria. Produciamo il biometano perché il biometano è più conveniente del biogas? Certo, il biometano è più conveniente nel senso che è metano puro, mentre il biogas, avendo dentro una percentuale del 35-40% dell'anidride carbonica, dal punto di vista dell'efficienza energetica, è minore. Quindi se io riesco a togliere l'anidride carbonica e poi a valorizzarla, perché è un gas tecnico importante anche per altri usi, ottengo un metano puro, che ovviamente dal punto di vista energetico è più efficiente, sia per produrre energia elettrica, ma soprattutto come carburante. Quindi voi avete fatto un lungo lavoro di ricerca e alla fine avete studiato dei processi per fare questo tipo di trasformazione. Certo, ci siamo concentrati soprattutto sulla tecnologia di purificazione del biogas, cioè le tecnologie che permettono di togliere a costi contenuti l'anidride carbonica del biogas e ottenere il metano puro. In particolare ci siamo concentrati sulla tecnologia a membrana che sfrutta la porosità di membrane che trattengono il metano e lasciano passare la CO2 per purificare il biogas e ottenere il metano puro. Il vantaggio di queste tecnologie è che sono molto flessibili, nel senso che si possono usare a piccola scala, quindi sono adatte ad esempio ai piccoli e medi impianti di biogas sui liquami zootecnici o su grande scala perché sono modulabili e quindi si possono utilizzare anche nei grossi impianti, ad esempio per la produzione di biometano partendo dall'umido domestico, dagli scarti organici delle grandi città. Era esattamente l'ultima questione che le volevo chiedere, questo tipo di progetti sono applicabili nel nostro territorio per complicazione tecnologica, per investimenti e anche per volumi? Sono sicuramente applicabili, Emilia Romagna è leader tra le regioni italiane proprio nelle tecnologie di compressione del gas, di distribuzione del gas, le nostre piccole e medie imprese del settore gas esportano per l'80-90%. della loro produzione nel mondo. Adesso si stanno specializzando anche nella tecnologia di upgrading, di fatti abbiamo lavorato sull'upgrading con quattro imprese del territorio emiliano romagnolo, proprio la messa a punto di nuove macchine per la produzione di biometano. E in più abbiamo più di 250 impianti già di biogas operativi nella nostra regione, sia su matrici agricole e zootecniche, sia su matrici rifiuti, rifiuti organici, fanghi, depurazioni eccetera, discariche. E quindi siamo in grado, stimiamo, il potenziale è circa 700 milioni di metri cubi di biometano all'anno, che siamo in grado di produrre solo con questi scarti. Potenziale, teorico, diciamo che realisticamente tra i 200 e i 300 milioni di metri cubi di biometano li possiamo già produrre da domani. Ma è vero che in Germania ci sono già persone che vanno a fare il rifornimento dell'auto a metano dai contadini? Sì, in Germania e in Austria ci sono già impianti di biogas e biometano che alla fine del processo hanno il distributore, sei service, per cui tu con una tessera arrivi e fai il pieno alla tua automobile di metano. Siamo con Silvano Bertini che è dirigente dell'assessorato regionale dell'attività produttive al Tecnopolo di Reggio Emilia per la presentazione dei risultati del progetto Biogom che la regione ha finanziato. Perché secondo voi è importante questa ricerca sul biometano? È importante perché noi puntiamo a creare nuove filiere produttive, nuovi filoni di sviluppo, nuove fonti di valore aggiunto per il nostro sistema economico. Il tema dell'economia circolare, della bioeconomia, tutto ciò che consente di ricreare nuove opportunità produttive e imprenditoriali legate a tutta questa biomassa che gestiamo nella nostra regione, ovviamente è una delle opportunità principali. Sono stati presentati anche i dati sulla quantità di materiali che si possono utilizzare per generare attraverso le biomasse questo biometano. Ci sono dati imponenti e anche sorprendenti. Sì, la quantità è impressionante, guardiamo le singole filiere tipo il vitivinicolo, sono numeri impressionanti. Il problema è trovare delle possibili traiettorie tecnologico-produttive che si possono sviluppare e questi progetti servono a questo motivo. Poi naturalmente c'è la componente economica, bisogna vedere i costi, come si posizionano poi questi prodotti sul mercato rispetto alla concorrenza e alla concorrenza dei prodotti sostitutivi perché ovviamente l'imprenditore ha bisogno di valutare anche questi elementi per fare un investimento importante, perché questi sono investimenti importanti. Quindi noi sosteniamo l'attività di ricerca che viene svolta da laboratori in collaborazione con le imprese per mettere a punto i processi da punto di vista tecnologico, le soluzioni produttive da punto di vista tecnologico, però naturalmente l'ultimo stadio è una decisione imprenditoriale.